ciao ragazzi sono su arma 3 e ragazzi sono già dentro la partita nel futuro del gioco sono sulla modalità king of the hill e ragazzi è da molto tempo che non buttavo un video del genere e ho appena parcheggiato lì e sono andato da questa parte perché c'erano tantissimi spari e mi stavo anche allargando quindi penso che adesso anche un pochettino va a allargare perché è la nuova chida adesso ragazzi vediamo se c'è qualcuno raggiù e lo andiamo a chillare c'è qualcuno qua vicino eh eccolo eccolo ne ho visto ne ho visto ucciso ucciso che ragazzi stavo laggando pure ok l'ho ucciso ragazzi l'ho ucciso incredibile incredibile ragazzi dopo la torretta l'ho ucciso mazzaro elicottero ucciso 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 eccolo eccolo ucciso ragazzi l'ho ammazzato ucciso 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 c'era il mitragliatore ragazzi purtroppo sta laggando non riesco a fare le kill come si deve va bene così va bene così va bene così ecco eccoci ragazzi siamo qua con il nostro compagno qua c'è gli altri salgono vediamo c'è un altro non vuole salire vabbè ce ne andiamo ragazzi ok siamo in due e vediamo se possiamo montare ragazzi la squadra mia è la più scassa però ragazzi finora scusate eh cosa succede ok ho fatto cinque kill e due terzi non è male purtroppo sto laggando ragazzi e alcune persone potevo uccidere anche senza morire però va bene un guarda allora andiamo nella strada e proviamo a andare più nel centro della mappa ci becchiamo dopo e basta un culo teore per morire ragazzi eccolo e ne ho incisi due in un gruppo ragazzi due 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 ma c'è un altro cazzo c'è un altro via via curiamoci curiamoci assolutamente tranquilli ragazzi tranquilli non vi preoccupate state tranquilli ragazzi non vado a scannare in realtà ragazzi mi sono cagato proprio eccolo ucciso ragazzi l'ho ucciso e ne ho ucciso un altro buono là c'è un altro è già morto ragazzi è già morto è già morto è già morto qua c'è un altro va bene ragazzi ma così è troppo facile non sono morto ragazzi tranquilli cioè non è che tranquilli tranquilli non sono morto ragazzi provo a fare la pazzia eh ora ci ammazzo le matti proviamo sto facendo una pazzia ragazzi non lo fate mai guarda vivere che cazzo stavo guardando ragazzi che cosa stavo guardando c'è qualcuno sopra eh forse si è sopra ragazzi è sopra è sopra ucciso ragazzi ucciso forse ce n'è un altro ragazzi hanno curato questo hanno curato questo forse da sotto morto ragazzi morto ok buono quanti cazzo ne abbiamo ammazzati ragazzi un esercito guarisco eh e abbiamo ammazzato un esercito ragazzi carichiamo a massimo questo lo ammazza ragazzi che sto amminando qua l'ho ucciso si l'ho ucciso ragazzi l'ho ucciso buono l'ho ucciso dai beh c'era ce n'erano due non so se mi ho ammazzato quelle che ho ucciso io o altro non sembra l'altro comunque l'ho ucciso ragazzi ah no no ma ha ucciso lui quello che ho ammazzato ora buono buono ragazzi va bene ragazzi che dire per questo per questo episodio è tutto vi ho fatto vedere di nuovo un po' di azione sulla modalità king of the hill ecco si asciugna anche il sudore il nostro personaggio e ragazzi che dire guardate che bello con le grafiche spettacolari che dire lo conoscete è molto bella è spettacolare è uno dei migliori giochi per per quanto riguarda la simulazione di guerra chi non ha visto ragazzi lo speciale di scarim dei 100 iscritti ho fatto lo speciale dei 100 iscritti solo nel primo episodio di scarim e quindi ragazzi andate a vedere che è anche molto carino quel gioco è molto bello che dire ragazzi lasciate un bel like e iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao